Strada di mezzo metà a origlia, guardate. Voragini. Strada, è tutto una buca enorme. La gente, cioè, ci caschi dentro. Allora. Buche, strade non asfaltate e sconnesse. Dopo le numerose segnalazioni arrivate alla nostra redazione nei giorni scorsi, dai nostri reporter, abbiamo deciso di constatare di persona in quale stato riversano le strade fanesi. Numerose segnalazioni velivano da località Metaurilia. E siamo venuti qua in strada comunale di mezzo, che come potete vedere dalle numerose buche e pozzanghere alle mie spalle, riversa in totali condizioni di degrado per sentire l'opinione di chi la percorre quasi tutti i giorni. Io frequento questa strada molte volte, quasi tutti i giorni, diciamo, perché ho i miei suoceri che abitano qui in fondo alla strada, abitano. Quindi, di conseguenza, faccio un sacco fatica con la macchina. Molte volte mi si spacca anche pezzi della macchina. Quindi, come me, penso che in questa difficoltà si trovano molte altre persone. Qui abbiamo più di un chilometro di strada, tutta piena di buche. Allora, durante il giorno si fa abbastanza fatica. Alla notte, quando non c'è neanche l'illuminazione, è un disastro. Io spero che il primo cittadino sindaco ne prenda proprio a cuore questa situazione, perché anche d'estate è sempre frequentata da ciclisti, da persone che fanno running e anche da persone che vanno a passeggio. Quindi, siccome è una bella strada, fondamentalmente, non è frequentata da auto, molte auto, piacerebbe alla gente avere una bella strada. Ecco, tutto qui. Un'altra segnalazione ci ha poi condotto in strada comunale Montegiove. Buche e alberi pericolanti, aveva scritto il reporter di strada, una versione confermata anche dai residenti. Piante che cadono, buche nella strada, strada si sta sempre necessitando di più, ma il sindaco pensa solo per la città e fuori città non ci pensa nessuno. Strada è molto stretta, la gente cammina come i pazzi con le macchine, non c'è nessun limite di velocità, non c'è proprio niente. Ma le segnalazioni non finiscono qui. La strada che porta da Carrara a Monbaroccio o strada provinciale 80, ci ha scritto un altro reporter, è un vero macello ed anche qui, buche e tratti sconnessi sono all'ordine del giorno. Nelle stesse condizioni riversa un tratto di via Tommaso Campanella, in località Chiaruccia, dove nei pressi della rotonda che collega la zona industriale di Bellocchia, Rosciano, gli ammortizzatori dell'automobile sono messi a dura prova. Anche da Tombaccia di Fano sono arrivate segnalazioni sulle buche, in un tratto di strada di cui però il nome, forse via Metaurilia, dicono i residenti, resta un'incognita. Non passa mai nessuno a coprire quelle buche, se ne formano sempre in continuazione, ogni tanto, per dire adesso io agli operai ogni tanto mi mettono un po' di cemento, qualcosa per pietà cristiana, però le buche lì ci sono sempre state e anche quando in periodo elettorale asfaltavano tutto, hanno asfaltato tutta la via là dietro, via Meteoricci, per cui noi eravamo speranzosi, siamo andati a dirlo proprio agli operai, mi hanno detto guardi noi qui più che buttare un po' di sabbia non possiamo perché non siamo autorizzati. Quindi questa via, che oltretutto ha un nome, ma non ci trova mai nessuno perché non c'è nel cartello né niente, questa via qui è abbandonata se stessa. Ieri, durante la puntata di Primo Cittadino, il sindaco di Fano, Massimo Seri, ha ascoltato molte delle richieste dei segnalatori e dei residenti e si impegnerà a verificare le varie situazioni.